Edgar Asdubizkas è un nuovo attaccante rossazzurro, benvenuto a Catania, con quale spirito e cosa ti aspetti da questa nuova grande avventura? Grazie, sono felice di essere qui, sono carico, non vedo l'ora di iniziare a giocare con questa maglia. La prima cosa è una piazza molto importante, piazza che vive di calcio, è quello molto importante e bello, eppure c'è tanta responsabilità a noi giocatori di fare bene. Tanta responsabilità sulle tue spalle, ma sei abituato, giovane eppure già nazionale lituano? Certo, sì, ho esperienza anche in nazionale, ho fatto qualche partita importante, sì. Veniamo all'esperienza invece degli ultimi due anni in Serie C, perché c'è un trend di crescita dal punto di vista realizzativo, 18 gol negli ultimi due anni con il Piacenza e con il Pordenone, che ti hanno fatto sentire probabilmente più consapevole delle tue potenzialità. Sì, questi due ultimi anni sono stati diciamo con continuità, quella che mi mancava prima, adesso ho ritrovato questa continuità e sono molto contento e spero di fare bene anche qua. Tanti ex giocatori del Pisa a questo punto vestono la maglia del Catania, questo pensi che possa aiutarti nel processo di ambientamento? Vabbè sì, tanto già ho conosciuto qualche ragazzo prima, quindi penso di sì. Hai giocato in tutti e tre i gironi del campionato di Serie C, quali sono le differenze secondo te? Tifoserie, magari atteggiamento, queste cose, magari anche i campi. Nella tua carriera a Lecce rappresenta certamente un crocevia importante, hai vinto un campionato di Serie C, hai esordito in Serie B ed anche in Serie A e hai motorato anche un rapporto speciale con un allenatore che ti ha fatto crescere tanto. Sì, direi che è stata una crescita, un'esperienza bellissima a Lecce che mi ha portato adesso fino qua. Sì, a Lecce abbiamo vinto il campionato, esordito in B, in A, mi ha dato tanto, anche il mister Liverani mi ha fatto crescere tanto e mi ha dato tanto veramente. Ai tifosi del Catania quale messaggio vuoi lanciare? Sono contento di essere qui, non vedo l'ora di iniziare a giocare con questa maglia e spero che ci darete un grande mano a noi tutti.